Bellissimo pubblico di Duelinks e benvenuti ad altra puntata sul canale Sono qui ragazzi per farvi vedere il re dei giochi che ho fatto qui con Rush 2 Vi faccio adesso vedere infatti Eccolo qui Ecco qui ragazzi il re dei giochi A destra spoiler del mazzo Stiamo parlando con lo Stratto Deck del Cyber Drago Che vi consiglio di aprirlo per due semplici motivi Adesso vi farò vedere comunque Intanto il primo Stratto Deck è regalato gratis Quindi abbiamo la prima copia Ma non solo signori da attenzionare qua sotto Che non si vede più ora come ora Comunque per tutto il WCS viene offerto Il secondo pacchetto a 500 gemme Ma è solo un'offerta limitata Quindi io ve lo consiglio di prenderlo Perché altrimenti come potete leggere qui Andrete a pagare 43,50 euro Quindi io personalmente comunque vi consiglio Di andare a aprire la seconda copia Perché no anche la terza copia Che vi costerà sempre 500 gemme Quindi diciamo che con 1000 gemme Avete il 3x lo Stratto Deck Che devo dire la verità Non è per niente male Si comporta abbastanza bene Infatti io l'ho portata al re dei giochi Infatti abbiamo anche una carta veramente importante Che io la presi all'epoca Comunque una Con una o due Sto vedendo qui Con il coupon SR da sogno Che in effetti ora A saperlo avesse avuto qui Comunque non l'avrei fatto Ma alla fine non è un problema Il secondo motivo E che il primo ottobre Uscirà il Diciamo il nuovo mondo Rush Con le carte fusioni Quindi ragazzi Attenzionare Perché potrebbe uscire la fusione Comunque con il Cyber Drago Quindi questo Stratto Deck Secondo me La sua versione 3x Tornerà ad essere Abbastanza utile Quindi questo è uno dei motivi Per la quale vi dico Di andarlo ad aprire Noi passiamo adesso Alla decklist Come sempre ragazzi Vi chiedo un like Sempre Un'iscrizione Per darci a crescere E a supportarci Inoltre se volete Tranquillamente Commentate Noi risponderemo Tranquillamente A tutti quanti Ma adesso andiamo comunque Alla decklist Come avevo detto prima Ed eccoci qui Comunque Niente di particolare Non abbiamo delle combo Vere e proprio L'abilità Se ogni volta che mettiamo Un mostro Di 2100 superiori In attacco Praticamente Viene buffato L'attacco di 500 punti Ma ovviamente Noi abbiamo Una seconda abilità Che possiamo prendere Un Il Come cazzo si chiama Quel Pronto cyber drago Dal cimitero Dal deck E aggiungerlo alla mano A sua volta Prendere una carta Dalla mano E metterla nel deck Questo può essere utile Comunque per andare A ciclare un pochettino Qualora avessimo Qualche carta morta In mano Queste sono carte Comunque gratis Ho aggiunto Comunque la barriera Perché non ho aperto I pacchetti speciali Però se avete Ovviamente Robine diffuse Nulla attacco Quelle carte Sono abbastanza buone Potete inserirle Tranquillamente Qui 2x Declatistici Talismanici Qui scudo e spada L'ho presi Proprio perché Non so perché Sinceramente Mi stava simpatico L'ho presi Non è che Non mi ha fatto Una grandissima differenza Però alla fine Diciamo che tutto Fa brodo Simpatico Grande cerbero L'effetto Del grande cerbero Fa 300 danni Per ogni mostro Macchina Di tipo terra Quindi se ne abbiamo due Andiamo a finire A 600 danni Che possiamo attivarle Entrambi Quindi andiamo a finire A 1200 danni Di barn Quindi molto simpatica Come Come carta Poi abbiamo comunque Canone d'assalto Che non può mancare E comunque Il nostro Sei tricorno Molto simpatico Carta che hanno dato Veramente Carta che hanno dato Gratis Comunque Ma adesso signori Andiamo a vedere I replay Iniziamo il combattimento Contro Yuga Odo Allora Siamo qui Praticamente Questo ragazzo L'ho inserito Volutamente Nel video Marco Pirelli Un saluto Anzi Colgo l'occasione Che cazzo chiude Aspetta Colgo l'occasione Per salutarlo Ragazzi Lo saluto Perché comunque Lo conosco Perché siamo Insieme Nel gruppo Due links Coghe Italy Lo trovate Su facebook Gruppo Tranquillamente Aperto A tutti E nei rent A ten Ma noi Adesso Iniziamo la partita Tutto coperta Classica Giocata Andiamo a fare Il primo turno Ovviamente Andarci a parlare Un po' Con le chiappette Giugiamo la carta Distruggiamo Comunque Non è che Qui comunque Farò vedere Qualche partita In realtà Comunque Più di tanto Non abbiamo Delle giocate Qui ho dimenticato Infatti Ad attivare L'effetto Piccolo Misplayino Che comunque Sotto il 100 Di danni Fanno comodo In realtà L'avversario Attiva l'abilità Distrugge Bene Ci godiamo Il video Del nuovo Mago Di strada Seven Eccolo qui Messo sul campo Ok va bene Basta Insergere Amora Ecco qui Flusso magico Diciamo Il deck Comunque I deck vanno molto Su quello che peschiamo In realtà A mio parere Non tanto per la strategia Un po' relativa Molto Basic In realtà Strategia Comunque Mettiamo 1 e 2 Attivo il suo effetto Mando il cimitero Metto un 3.4 Attivo Un artigiano Scarto Qui Comunque Una carta Abbastanza simpatica 1 2 3 Cerco di fare Più danni Possibili In questo turno Quindi buttiamo Tutto dentro Scendiamo Attacchiamo Con 1000 Attacco Con 1500 Volevo dire E comunque Abbiamo portato A 2000 life points Lui Di nuovo Il turno Per poter ricominciare Quindi Ti vedete Rush 2 Che così In realtà Andiamo Con le carte in mano Bene Quello che ti trovi Hai l'abilità che ti aiuta tantissimo Se hai la carta La pescata giusta Riesci a vincere Altrimenti nulla Comunque Andiamo in questa maniera Qui ragazzi Vediamo se ho attivato Il doppio effetto L'ho attivato Ok No Chiuso in questa maniera Va bene Ci siamo portati a casa Comunque La nostra vittoria Tranquillamente Saluto qui Marco Apirelli E andiamo avanti Al prossimo duello Qui invece Siamo contro Azara Mutsuba Mutsuba Siamo contro Ok per l'orda Ok Va bene Grande Warcraft Ok Classica giocata Ragazzi Andiamo a fare Andando a pescare La nostra carta 1,2,3 Fine del turno Andiamo avanti Questa volta Potremmo anche tenerle in mano Certe volte Però In ogni caso Mi sembra meglio pescare Una carta in più Perché altrimenti Mi sarei bloccato Con tre carte 1,2,3 Posizioniamo Scarto una carta E metto un'altra Vado tranquillo di sacrificio Giro 1 e 2 Attivo Ok Metto qui Un attimo un cacchio Praticamente Perché Ho dimenticato Ho failato un pochetto Perché l'avversario Non aveva mosso Il livello 7 E c'è sto un cazzo Di 200 Messe in attacco Ok Scarta Mette La carta è bellissima Ragazzi Sto già in rush Il duello Lo adoro un po' Per questo 2005 Venti che Sg Lui ne approfitta Per farmi i più danni Possibili Comunque Ecco qui Ovviamente abbassa lui Attacco ovviamente Andrà a togliere Il mostro da 200 Tocca di nuovo a me Mettiamo Mostro Scarto Pesco qui Ok Chiudiamo in questa maniera Diminuisco Il 2005 rimane lì praticamente Non ho modo di rivelarlo giù Peccato perché me la sono giocata anche molto sulla fortuna Sbarramento d'acciaio Incredibile Ho messo la carta e abbia tutto Però comunque abbia briccato nella mano Saranno carte magia o trappola sicuramente Noi andiamo qui Ampotenziamo Scarto Metto il mostriciatra A questo punto 1, 2, 3, 4 Mettiamo qui Rimettiamo tutto nel deck Andiamo a rifocillare il nostro mazzo Ecco qui Riminiamo l'attacco Metto il 1.500 Annullo l'attacco Mi difendo con la carta magia Tanto per dire qualcosa di coperto Qui già stiamo vedendo ragazzi Pietra e pietra Come si suol dire Andiamo a distruggire una delle tante carte Quella magia Peccato Va bene Mettiamo dentro Affinché io vado ad attaccare con i mostri più bassi E non con i mostri più forti che tengo Quindi 1.500 Sacrifico Metto lui Attivo l'abilità Metto giù il 1.100 Vado in questa maniera Attivo l'effetto Vado per attaccare Comunque lui Non si prende danni In questa maniera A parte se non il primo attacco Io chiudo in questa maniera Quindi Abbiamo autodistrutto E via Discutendo 2.100 2.100 Ok anche lui Stesso mazzo Attacca Qui vabbè Il vincolo fantasma Qui mi ha salvato Non ti tanti in realtà Infatti per questo poi Ho cambiato Il deck La carta trappola Sparamento d'acciaio Distruggo lì Metto 1.500 Metto lui Attivo l'effetto Riduco l'attacco Metto lui Di nuovo 2.400 Attivo l'effetto 1 Attivo l'effetto 2 Come dicevo prima ragazzi 6.600 Di danni Sono 1.200 Comunque che si è preso tranquillamente Ragazzo pulito pulito Poi andiamo a farci ad attaccare E comunque ci siamo portati a casa La nostra partitina Nonostante il misplay Il misplay fatto all'inizio E questa è la partita Che mi ha portato al Re dei giochi Siamo contro Drago Mega O il Mega Drago Inizia il turno Anche inizio Mi ricordo Inizia l'avversario Della parte comodo Quando inizia l'avversario La mano un po' di merda Comunque devo dire Vedrà Ennesima mano Sempre così 1 e 2 Ragazzi Io vi ho un po' da fare Ce la giochiamo su rischio Perché comunque Se è una carta distruttiva Mi togli il mostro E buonanotte Noi facciamo 300 di danno Attacchiamo Ok Lasciato in questa maniera Quindi sarà qualche carta magia Perché non c'era un timing Scarta e pesca Sbaramento d'acciaio Distrugge la carta magia Finisce qui Non ha Non ha altri in mano Guarda il sbaramento d'acciaio Adesso uno li lo distruggo ugualmente Infatti l'ennesimo Sbarramento 1 e 2 Metto i 9 2004 Riattivo di nuovo Quella classica combo Quindi prima Dei 6 Prima 600 Altri 600 con l'altro Attacchiamo Comunque Andiamo a ripulire Un pochettino Il campo Lui non ha serificato niente Quindi o sono mostri O sono carte magia Comunque Prende Scarta Prende di nuovo Mette di nuovo Scarta No lui ha bisogno di ripescare Infatti E qualcosa è andato a prendere Qualcosa è andato a prendere Ok Attiva 2009 attacca Giusto Tocca di nuovo a noi Ripeschiamo di nuovo le carte Non abbiamo nulla Per togliere Il beccolo Quindi andiamo a fare Sacrifichiamo 1 e 2 Mettevo lui da 2005 Questo a caso Ma fermate un attimo Vado ad attaccare Col 2005 prima Almeno credo che faccio così Per andare Comunque a fargli uscire Qualche carta Se fosse la carta Dovina e diffuse In ogni caso Mi distruggerebbe lui E mi rimane sempre lui attivo In ogni caso Non si può fare niente Lui attiva la carta magia Non prende danni Di nuovo Sbarramento Come se ne avesse 2000 Attiva la carta L'uccelletto Qua 300 di danno Potenzia 2009 Vediamo lui cosa attacca Attacca 2004 Io qui gli faccio perdere 500 d'attacco Sta carta si è rivelata A bellina Sto desk bot Messo qui 2004 Ci auto Distruggiamo insieme E per noi È abbastanza comodo Mettiamo quello da 1000 Mettiamo lui Baffiamo un attacco Ragazzi qui Poco da dire Si sono portati A partita a casa L'avversario Si arrenda E ovviamente poi Prende dei danni E Ai live points Liberamente E questo Ed è che Rush 2 C'è poco da spiegare Nelle giocate Qualcosina così Sì e no Se vogliamo un poco Girare a qualche Carter Rappola Poi per il resto Ragazzi vada come vada In realtà A mio parere Non c'è proprio Tantissimo da ragionare Comunque Io vi ripeto Secondo me Questo deck Ve lo consiglio Questo strato deck Ve lo consiglio Perché è difficile Prendere 3 strato deck Senza spendere una lira Visto che di solito Comunque costano Ma avete visto 3,50 euro Già la seconda copia Io ve lo consiglio Ripeto Sia perché spendere Solo 1000 gemme Sia perché Nel Il prossimo mondo Abbiamo Cominciato a avere I mostri fusione Che sicuramente Ci saranno Il cyber drago Fusione Quindi Vi portate già avanti Con un deck Abbastanza A mio parere Competitivo O quantomeno Speriamo che sia così Detto questo Come sempre Vi ringrazio E ci vediamo Ad un prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti